Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS No, 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 no. Qua... Quindi inizierà i 10 in quarto pure l'altra Come è i 10 in quarto? Ah, sì, no Certo, se tu fai a dove sa che hai 10 invece Fai vinci, solo, solo Arrivola E poi è una fatica E poi è una fatica Ma cosa è che cosa si vuole raccontare? Eh, però... Andiamo calcio Bravo! Ehi! Sìììèèonnen Bravi frick Detta bella Durante no ci sono e 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 vedete abbiamo messo il Fabio quello a destra va bene va bene e me no no va bene ma guarda che ha preso e e ce l'hai lei sei alle spalle semplicemente per il fatto che qua ogni giorno e e bravo be e 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 ma e la tua la tua bravissimo va bene si 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 17 17 bravo valerio bene entra dentro bravo e la e e e e e Stiamo a fare un po' di rinforzanti. Sva bene. Oh, accorcia! Oh, accorcia! Oh, saliamo! Oh, saliamo! Oh, saliamo! Oh, saliamo! Oh, saliamo! Oh! Ibi! Attacca! Oh, saliamo. Oh, saliamo! Oh, saliamo! Bravo, picchio! Bravo! 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 è la tua troppo calmo però troppo calmo porca troia, una palla persa in mezzo per bravo bravo penso che l'abbia spostato per la storia per la storia con la storia con la storia a grande per la storia sconfano perché la storia avversa avvolta la storia avversa attraverso